Ciao a tutti da Vittorio, torniamo con questa sfida uno contro uno. In questo video la sfida sarà fra due portieri ovviamente della Lazio. Chi è stato secondo me, poi voglio leggere ovviamente anche i vostri commenti, il più forte fra Luca Marcheggiani e Ivan Provedel. Due portieri che hanno stabilito record con la maglia bianco celeste, Luca Marcheggiani record di imbattibilità, Ivan Provedel record di clean sheet. Ma allora chi è stato secondo me il più forte? Luca Marcheggiani arriva alla Lazio nella stagione 1993-1994, lascerà il bianco celeste alla termine della stagione 2002-2003. Marcheggiani con la Lazio vincerà tutto e diventerà il portiere che ha vinto di più con la maglia bianco celeste. Per lui uno scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, eccetera eccetera. Marcheggiani è stato uno dei migliori portieri della storia recente, non solo della Lazio, ma direi dell'Italia intera. Ivan Provedel invece arriva alla Lazio decisamente più là con gli anni, ma un po' a sorpresa, almeno secondo alcuni, è diventato titolare, visto che è arrivato per fare la riserva a Luis Maximiliano. Provedel arriva nella stagione 2022-2023 dallo Spezia, entra in campo dopo 5 minuti della prima partita Lazio-Bologna per l'espulsione di Maximiliano e non uscirà più. Ivan Provedel è alla terza stagione con la maglia della Lazio, dove è diventato titolare e ha battuto il primo anno il record di clean sheet, ben 20 clean sheet in stagione. Un record che fino a nessun portiere biancoceleste ha eguagliato. Luca Marcheggiani è il portiere con il maggior numero di presenze ufficiali per la Lazio, ben 339 incontri fra ovviamente il 93 e il 2003. Nonché è quello che vanta per la squadra il record di imbattibilità, infatti ha tenuto la porta inviolata per 745 minuti nella stagione 97-98. Luca Marcheggiani è il primo in questa classifica di minuti imbattibilità in campionati italiani con 745 minuti, seguito da Fernando Orsi con 724. Ivan Provedel è terzo e quarto, pensate, terzo con 620 minuti e poi quarto con 607 scavalcando Felice Pulici, il portiere del primo scudetto della Lazio. Quindi due portieri che amano tenere la porta inviolata. Due portieri però diversi nelle proprie caratteristiche. Luca Marcheggiani era sicuramente fortissimo fra i pali, ma la differenza essenziale fra Luca Marcheggiani e gli altri portieri era il controllo dell'aria di rigore. Marcheggiani era fortissimo nelle uscite alte. Qualcosa di incredibile perché riusciva veramente ad andare al limite dell'aria ad abbrancare il pallone in presa alta. E questo dà una tranquillità, una sicurezza al reparto difensivo importante. Ivan Provedel invece, come molti portieri moderni, va detto, non è fortissimo nelle uscite alte, anche se abbastanza alto e quindi non ha grossi problemi nelle prese alte. La grande differenza fra i due è che Luca Marcheggiani rispecchia un po' il portiere vecchio stile, molto scarso con i piedi, mentre Provedel rispecchia da questo punto di vista il portiere moderno. Provedel con i piedi è fortissimo, tant'è che Provedel prima era un centravanti che poi si è trasformato portiere, mentre Marcheggiani in tutta la sua carriera da giovanile ha sempre fatto il portiere. Ecco, Marcheggiani per colpa dei suoi piedi non fantastici ha perso il posto di titolare della Nazionale Italiana. Ve lo ricorderete tutti, l'errore con i piedi di Luca Marcheggiani con la maglia della Nazionale. Con la Lazio questo handicap non è stato così essenziale, anche perché è vero, c'era Zeman che amava far uscire il portiere, ma in quel periodo anche con Ericsson si giocava pochissimo dal basso, mentre adesso Marcheggiani farebbe difficoltà a giocare nel calcio moderno, visto che quasi tutte le squadre partono con il calcio da dietro, giocano da dietro e Ivan Provedel è uno dei segreti della Lazio. Uno dei motivi per cui Provedel è diventato titolare al posto di Luis Maximiliano è appunto quello, saper giocare benissimo da dietro. E poi Provedel ha fatto anche un gol in Champions League, un dettaglio non da poco per i portieri. Anche Provedel come Marcheggiani è fortissimo fra i pali, meno nelle uscite alte, ma Provedel fra i pali secondo me è uno dei portieri più reattivi del calcio moderno. Un'altra caratteristica di Marcheggiani erano i par rigori. Non si dice tanto, ma Marcheggiani ha parato tanti rigori con la maglia della Lazio. Probabilmente quelli della mia età si ricorderanno sicuramente rigore parato al derby a pochi minuti dalla fine a Giuseppe Giannini, che permise alla Lazio di vincere quel derby 1-0. Provedel di rigori ne ha parati, ma non sicuramente come Luca Marcheggiani. Provedel più portiere moderno, Marcheggiani più portiere all style. E quindi chi era secondo me il portiere più forte? Beh, io dico che interpretando il ruolo in vecchia maniera, Luca Marcheggiani è sicuramente più forte di Ivan Provedel. Portiere che sbaglia di meno. Ecco, una delle cose che possiamo dire di Provedel è che in queste tre stagioni alla Lazio qualche errorino di troppo Provedel l'ha fatto. Ma la qualità, la bravura di Provedel è quello di dimenticarsi subito l'errore. Provedel ha l'abilità di sbagliare e dimenticare e nel corso della partita fare altre parate importanti dopo un errore. Penso a Lazio-Milan, dove Provedel fa due errori gravi che costano in due gole all'Azio, però poi al 93 fa la parata decisiva che consente all'Azio di portare a casa almeno un punto. Questa è una caratteristica importantissima per i portieri, dimenticare gli errori. Però Luca Marcheggiani secondo me era un portiere più completo. Non solo perché è più forte delle uscite, fra i pali è sempre stato bravissimo e in più aggiungiamo la qualità di paradigori. Però, attenzione, parliamo di due portieri secondo me molto forti. I più forti insieme ad Angelo Peruzzi nella storia recente della Lazio. Marcheggiani più vincente, Provedel sarà ricordato sempre perché è stato il primo e forse unico portiere della Lazio a fare un gol in Champions League. Io dico che Marcheggiani è più forte di Provedel. Tu che ne dici? Scrivono e metti qua sotto. E mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Grazie.